che notizie comandante sono felice che siate tutti i diri le forze di eggman hanno annientato le nostre difese a green hill e la resistenza in città riferisce che qualunque cosa abbia finito sonic scusate non mi sono ancora abituato all'idea qualunque cosa le ha spaventate e messe in buca tutte tranne questa eroica amica che è una superstite arrivata qui tutta intera vi presento la nostra nuova recluta non è molto grossa nemmeno tu ci armi ma è utile avere con noi il tuo di dietro appuntito ecco qui prendi amica ci affidiamo a te ok diamoci una mossa forza dobbiamo andare a salvare il mondo